Allora grazie a tutti, possiamo cominciare Aspetta Però prima c'è il mister che dice qualcosa Di questo fatto qui devo dire? Sì Allora, ho avuto un incidente domenica mattina, mi è successo un incidente domenica mattina mentre venivo a Castelvolturno perché c'erano a allenarsi Sirigu e Demme e poi io ci sono sempre perché non ho altro da fare Nell'incidente ho riportato la frattura della clavicola, grazie perché non mi veniva e quando è successo l'incidente poi ho avvisato i nostri dottori all'ora di pranzo che mi sono reso conto del dolore che avevo Siamo andati lì alla clinica Pineta Grande a fare gli accertamenti perché sono stati gentilissimi e mi hanno fatto le radiografie, hanno fatto tutte le cose e si è riscontrato questa frattura della clavicola per cui poi tramite Canonico e De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per quanto riguarda i problemi alla spalla che il dottor Castagna Castagna Alessandro che è all'estero a fare un congresso importantissimo per cui non poteva intervenire lui ma mi ha messo a disposizione il primario di traumatologia di Mento Lorenzo lì all'Humanitas a Milano e sono stati gentilissimi perché poi io fra fare accertamenti qui al Pineta Grande partire, prendere una macchina fare 7 ore di viaggio per arrivare a Milano sono arrivato alle 4 di mattina erano lì a aspettarmi mi hanno fatto tutti gli ulteriori accertamenti e mi hanno permesso di entrare nella stanza poi la mattina alle 11 e mezzo sono riusciti a trovarmi uno spazio per operarmi mi hanno operato, sono uscito alle 3 poi mi hanno dimesso ieri sera alle 7 e tramite un amico sono riuscito a ritornare un'altra volta un'altra volta a Castelvortunno stanotte alle 3 e mezzo per cui tutto a posto sono riuscito a saltare solo l'alimento di ieri per quanto riguarda un po' di appoggio ho il mio capitano che mi ha chiamato subito e ha detto appoggiati a me e io lo userò come tutti gli altri compagni di squadra per essere in piedi in questa bellissima partita in questa bellissima esperienza della Champions League grazie first of all thank you everyone before we start the head coach would just like to say something I had an accident on Sunday or rather I was involved in an accident on Sunday coming here to the training ground at Castelvortunno I was here to oversee a training session with Salvatore Sirigu and Diego Demme because I'm always here when players are training and unfortunately I fractured this bone here and in my shoulder I experienced a lot of pain I went for some check-ups at the clinic Pineta Grande and I have to say the staff were very kind indeed in dealing with me I had an x-ray and that confirmed that I had indeed fractured this bone I was in contact with doctors Canonico and De Luca and we also managed to get in touch with Dr. Alessandro Castagna who's not actually around at this moment in time because he's abroad for a very important professional competition so he wasn't able to actually look at my shoulder directly but he did put me in touch with one of the specialists in the traumatology department at the Humanitas Clinic in Milan so I actually drove from the Pineta Grande seven hours got to Milan at 4am we ran through some other checks eventually they managed to find me a room on the ward and at 11.30 the next day I had an operation I was out by three o'clock and then I got back yesterday night here at 7pm a friend then sorry I left by 7pm a friend then took me back to Castavoltura and I got here at 3.30am so everything's good I only missed yesterday's training session but I have the support of the captain alongside me I can lean on him just as well as I can on all the other players I'd also like to thank the mole inside the training ground there are examples of these in every training ground so they've done another brilliant job non c'è molto da ridere prima o poi li trovi non ma sa buono che c'è c'è chi vive per queste cose qui se no non ha spazio sui giornali per cui è giusto che continui a fare il suo lavoro vai buon pomeriggio Spalletti immagino che domani la vedremo in panchina per l'esodo del Champions nonostante le difficoltà le voglio chiedere rapidamente il cappello quanto la emozione nonostante la emozione c'è il cappelletto Champions e tornare dopo tanto tempo in Champions nonostante la sua ovviamente navigata esperienza allenatore e se ci può aggiornare sulle condizioni soprattutto di Osimène e di Lozano allora così mi vedrete per un po' di tempo perché lo devo portare per un mese questo tutore per cui mi hanno messo una placca con sette viti e devo fare il percorso che devo fare quando ci sono fratture di questo tipo qui a me emoziona tantissimo poter essere come spesso si è detto a Luna Park del gioco del calcio perché sentire le musiche che ci sono dentro gli spogliatoi oltre che quella lì fuori che sentono tutti i calciatori arrivano tutti con la musica particolare dentro le cuffie qualcuno ce l'ha sul cellulare accesa e gli brillano gli occhi a tutti è un'atmosfera bellissima spogliatoi aperti si sentono gli urli degli altri si sentono i nostri e diciamo che che questo è un premio a quello che è stato il grande campionato che abbiamo fatto l'anno scorso e giocare questa competizione è quella a cui aspirano tutti ecco in Champions una palla morta in un attimo riprende vita e decide la partita questa è la è la differenza sostanziale da quelle che sono poi le giocate che si vedono nei campionati e quelle che si vedono fare dai calciatori di livello Champions League poi che mi avevi chiesto Lozano ah sì Lozano è a disposizione si è fatto ulteriori accertamenti ieri stavamo svolto tutto l'allenamento Osimène ieri aveva questo fastidio per cui zero allenamento ieri allenamento differenziato oggi allenamento con il gruppo domani mattina e se la risposta è ulteriormente positiva a quella che si è avuto oggi per fargli fare questo passaggio intermedio che è corretto fare avendo due giorni a disposizione domani proverà a calciare proverà a fare qualcosa di più forte e se la risposta sarà positiva come quella di stamani avendo anche passato altre 24 ore può giocare con la Grazie a tutti. 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 Buon pomeriggio mister, innanzitutto le auguro di recuperare quanto prima possibile da questo infortunio. Pensa che per le caratteristiche del Liverpool e anche del modo in cui si approccia a questa competizione la sua squadra possa esprimersi al meglio nella serata di domani, tenendo conto del fatto che sia per esperienza che per qualità tecniche il Liverpool, quantomeno sulla carta, è superiore? No, no, vai con le risposte. Al massimo anche quando il pallone è fuori dal rettangolo di gioco. Tu quel pallone lì te lo puoi ritrovare da tutte le parti e per cui è l'anticipazione di qualsiasi azione. Noi dicevamo la scorsa settimana che non sapevamo la reazione di questa squadra dopo un passaggio quasi a vuoto come quello che è stata la non vittoria con il Lecce. E loro però ce l'hanno fatto vedere. Per cui questi calciatori qui, come si è già detto in precedenza, sono una squadra che rifarà innamorare il Diego Armando Maradona perché si allenano bene, perché sono calciatori che hanno questa passione sfrenata per il pallone, per questo gioco, per questi colori, per il compagno di squadra. Io sono convinto che domani sera faranno una grande partita ripassando, ripercorrendo un po' quei comportamenti che abbiamo visto nell'ultima gara contro la Lazio. Prima di tutto, get well soon. E come per il gioco di domani, in quanto riguarda il stile dell'Italia, la forma di approfondire le cose, si sembra di avere più qualità e più esperienza di avere più qualità e più esperienza da voi. Come si trattere con questo? Sì, ci sono grandi differenze, e abbiamo già detto che. E quando pensi che hai fatto il tuo lavoro perfetto, quando hai carried out ogni task, scrivono le lettere, attraverso le persone di questo ilcino possono prendere qualcosa e causarvi problemi. In order to limitare questo, bisogna essere cambiato 100% alle volte, anche quando il gioco è fuori. Perché bisogna essere capace di anticipare qualcosa di succedere. Ma abbiamo detto l'ultima settimana, non siamo capiti come i giocatori di rispondere a quella off-nite, quando non abbiamo vinto l'Ecce, ma i giocatori hanno mostrato quello che è tutto. Questi giocatori hanno mostrato che sono una squadra. e come ho detto nel passato, questi sono i giocatori che davvero avranno il Stadio Maradona a fallire in amore con il team, una volta che si trattano bene, hanno una grande passione per il football, per queste colori, per questo team, e per i loro amici come un gioco. Quindi credo davvero che avranno produrre una grande performance tomorrow night, simile a quello che abbiamo mostrato contro il Lazio nel nostro ultimo gioco. Mediaset Sulla carta, ma sottolineo, sulla carta il Liverpool dovrebbe essere la favorita del girone, di questo gruppo molto complicato. Allora le voglio chiedere, nonostante il Napoli del secondo tempo di Roma credo le abbia fatto venire l'acquolina in bocca per come ha giocato, se firmerebbe per un pareggio comunque contro il Liverpool, perché la prima partita è sempre quella un po' più delicata del girone ed ha anche autostima. Significerebbe andare a limitare quello che abbiamo visto in questa grande partita, perché poi anche la Lazio sappiamo che calcio gioca, che allenatore ha, quali calciatori. Noi siamo andati lì a giocare la partita con l'intenzione di vincere la gara, campo non facile, è chiaro che noi si torna in Champions dopo un po' di tempo e si trovano delle squadre più rappresentative. Daremo il massimo per fare una prestazione all'altezza e soprattutto non bisogna andare in campo con l'idea di raccogliere i complimenti. Noi bisogna andare in campo con l'idea di poter vincere la partita. Cercheremo sempre di mandare questo segnale qui, come sul 2-1 a Roma abbiamo inserito nelle due sostituzioni due calciatori molto offensivi per andare a fare il terzo gol, se ci fosse stata l'opportunità, non per andare a limitare questo processo di crescita che hanno i calciatori in questo momento qui. Io lo ritengo sbagliato, per cui si va a giocare la partita per provare a vincere naturalmente. On paper, and I stress on paper, Liverpool are our favourites to win this very challenging Champions League group. Despite that, Napoli played very well in the second half of their recent game against Lazio. But would you settle for a draw at this moment in time, given you're up against Liverpool and the first game is always the hardest, you know, to build some confidence? I think if we were to do that, that would limit ultimately what we showed in that last game. As we know, Lazio have a lot of top players, we know the brand of football they play, they have an excellent coach as well, and yet we went to Rome to try and win that game, even though it's not an easy place to go to and get a result. It's true that we're back in the Champions League after a while away, and we're playing against one of the most iconic teams in the competition, but we need to do absolutely everything in our power to produce a performance up to standard. We don't want to go out onto the pitch simply to get praise and compliments. We want to go out there to try and win the game, and that's the signal that we'll try and send out, the message we'll try and send out. Just as we did after we scored the second goal against Lazio, I made two attacking substitutions to try and score the third goal as opposed to protect that lead. But I think if we were to limit that process, then we would hold back the players' growth and development as footballers. I think that would be sending out the wrong signal. We need to go out there and try and win the game. Setanta Sports. Hi, coach. Nikakev Keshwili, Setanta Sports, Georgia. First of all, I would love to wish you a speedy recovery. Coach, based on your statements, we at Setanta Sports think that you understand perfectly how big talent and what a big potential Kvija has. You sub him in every game to build his endurance and keep him out of injuries. What do you think when he will be in perfect football condition and what is essential right now for him to work on? Mister, intanto le auguro una buona guarigione. Abbiamo capito dalle sue dichiarazioni su Kvija-Kvarazeli e dal fatto che lei tenda sempre a toglierlo dopo 60-70 minuti, che lei vuole aumentare un po' la sua resistenza in campo anche per evitare che gli possa capitare degli infortuni. Secondo lei, quando starà al meglio dal punto di vista della condizione fisica e quanto potenziale ha in generale. Quello della sostituzione, dandogli quel minutaggio lì, è una cosa che ormai nel calcio può avvenire, al di là di quello che è la condizione dei calciatori, perché a volte con le cinque sostituzioni si lasciano fuori i calciatori più bravi per usarli nel momento che poi possono decidere la partita. Lui a me sembra in condizione perfetta, il Napoli ha anche altri calciatori forti, per cui c'è da valutare un po' tutto e noi siamo molto contenti del ragazzo, soprattutto come uomo, come persona, oltre che come calciatore, come professionista. La ragazza che faccio le sostituzioni a quel punto di vista del match è perché in il moderno game hai il scopo di fare così, regardless di quali il livello di fitness. E a volte, quando hai cinque sostituzioni disponibili, hai le nostre aiutori conoscenze, sapendo che puoi portarli a un certo punto di provare il gioco. Ma io credo che sia un po' tutto. Napoli ha anche un numero di altri top players, quindi c'è un numero di fattori a considerare. Ma siamo riusciti con il gioco, first and foremost as a man, as a human being, even before being a footballer. Rai. Eccomi sono qui, mister. Buongiorno. Bocca al lupo, innanzitutto. Le chiedo, da quest'anno c'è stata un'indicazione anche agli arbitri di farvi giocare in un certo modo proprio per avvicinarsi lentamente, insomma in maniera anche importante, al tipo di gioco europeo. Questa crescita, chiedo a lei, per il Napoli e in generale secondo lei per il calcio italiano, sta avvenendo o è sempre ancora necessario fare uno switch quando si dice, ok, ieri abbiamo giocato il campionato, domani dobbiamo fare la Champions, è un'altra cosa? Ma secondo me ci sono dei segnali importanti che questi allenatori, soprattutto più giovani, stanno portando dentro il modo di interpretare la partita delle proprie squadre, è bello evidente. È chiaro che quando si va a giocare contro il Liverpool il passettino va fatto lo stesso perché non basta questa cosa qui. Anzi, anch'io a volte mi diverto a guardare un po' quelle che sono le statistiche e magari ve ne aggiungo una in più perché ce ne ho di più a disposizione. Loro giocano, è tutto un calcio totale, nel senso che ci si vede tutte le cose che bisognerebbe richiedere alla propria squadra e giocano costantemente con queste pallate, con i cambi di gioco dal centrale, sul terzino, dal mediano, sull'ala opposta, continue sventagliate di palla. C'è una statistica che abbiamo paragonato con la partita Lazio-Napoli e quella del Liverpool con l'Everton che nella nostra partita sono stati battuti 30 falli laterali, 30 rimesse laterali perché noi si dice sempre copri dentro, gioca dentro, stai dentro, gioca corto, loro no, loro dicono gioca lungo, cambia di gioco, gioca aperto, mettigli da dietro le spalle, ci sono stati 60 rimesse laterali. il doppio delle rimesse laterali, che vuol dire? Vuol dire che stanno sulla linea del campo e che continuamente vanno a fare duelli laggiù, vanno a buttare palla laggiù per fare gli uno contro uno di Dias, di Momo e via dicendo. E questo è un dato un po' particolare che però racconta quello che è il modo di interpretare calcio da una squadra come il Liverpool perché loro non ti consentono di respirare con queste continue sventagliate, tentano di tenerti sempre la testa sott'acqua per giocare sempre in degli spazi più ampi, se li vai a prestare alti ti mettono subito la palla dietro la linea difensiva, se li aspetti arrivano a metà campo e ti mettono palla ugualmente in bagnerina sulla linea di fondo e poi hanno questa convinzione, questa forza di essere una squadra di primo livello che gli si legge in qualsiasi atteggiamento hanno. Nema. Eh. Allora, in questo caso, best of luck tomorrow night. It's been said this season that the refs have been given instructions to slowly bring the Italian game towards the European game. Do you think that's something positive for Napoli? Is that ongoing or do you still need to actually switch your mindset between a domestic game on one day and then a Champions League game on another? I think we're already seeing important signs on that score. We've got young coaches that are bringing a fresh approach e questo è chiaro per tutti che vedete ma quando si giocava a Liverpool bisogna sicuramente fare come standard se facessi il bare minimo non sarà abbastanza ma io sempre like aver guardato i numeri e statistiche e ho avuto più di me che i vostri layman e si giocava un brand di total football puoi vedere in ogni facet di loro play lo che dovete chiedere di una squadra sono able a shift il ballo between the centre back to the full back into the defensive midfielder they move it very well but these I actually compared the data from our game away at Lazio and the game between Everton and Liverpool in our match there were 30 throw-ins because we're always saying cover inside goal side and inside play it short whereas they actually had double that amount 60 throw-ins because they try and play open they try and stretch the pitch they try and maximise all of that and that shows that they are constantly having the ball on the touchline they're trying to force those one-against-ones with Luis Diaz with Mohamed Salah and that shows the approach that Liverpool take to the game they try and suffocate you they don't let you breathe they're trying to constantly keep your head below water if you squeeze them high up the pitch then they play the ball over the top in deep if you try and sit back then that's when they shift it wide get it to the byline and cut it back and above all they have a lot of top they have a lot of belief they're well aware of what a top side Corriere dello Sport Salve mister eccomi bocca al lupo innanzitutto nel 2019 Napoli-Liverpool aprì la fase gruppi di quell'epoca e c'erano 38.000 spettatori allo stadio domani invece sono previsti quasi 60.000 e questo significa che il suo Napoli ha riconquistato ha fatto rinnamorare la gente lo conferma anche il campionato i dati del campionato le prima diceva che in Champions le palle morte diventano vive all'improvviso allora le chiedo quanta vita può dare questo questo stadio alla squadra e quanta vita può dare la squadra alla gente ma noi sappiamo della passione dei nostri sportivi possiamo fare anche un confronto a livello di pubblico che loro hanno uno stadio bellissimo che canta quando ci si gioca e si sente forte ma domani sera l'urlo dei Champions lo sentiranno anche da Anfield perché il pubblico del Maradona farà vedere che tiene ai colori della propria squadra della propria città che vuole bene ai propri calciatori e quelli come noi che vivono la città che abitano in città che vengono quotidianamente a attraversare le strade di Napoli sono obbligati a a recepire questo messaggio di affetto di amore perché te lo te lo iniettano dentro senza che tu faccia niente ecco per cui sarà bello vedere i calciatori lottare come dicevamo prima con muscoli polmoni perché quando tentano di tenerti sott'acqua ci vogliono polmoni grossi e testa per essere lucidi poi ad andare a fare le scelte in questa in queste giocate ad alta velocità grazie a best of luck for the game in 2019 when Napoli entertained Liverpool there were 38,000 at the stadium tomorrow night 60,000 are expected that clearly shows that once again the fans have fallen back in love with the team and that's down to the season you had last term you mentioned that a ball that can appear dead and buried in the Champions League can suddenly spring back to life how much life can the team give to the fans and vice versa we're well versed in the passion that the fans have for this team and I think if we compare the Stadio Maradona with Anfield obviously at Liverpool home games they sing a great deal you can really hear their chants and their songs when they play but tomorrow night when the Champions League anthem comes to an end they'll be able to hear the crowd say the champions as far as Anfield because the Maradona crowd show the passion they have for these players, for this city the love that they have for this football team and those of us that live in the city when we cross the streets it's impossible not to pick up on this message this feeling of love that the fans and the citizens have for this team because it's almost injected into your veins without even your knowledge prior to it but as I said we're excited that the players can compete with their muscles with their lungs because we're going to need big lung capacity when Liverpool try and hold our heads underwater and above all we need to have clear heads to make sure that we make the right choices in the fast-paced environment that is a Champions League game Corriere della Sera Salve Mister, eccomi qua Mi dispiace, le auguro che si riprenda veramente al più presto A proposito di vita questa è una squadra dove ci sono giocatori che la Champions non l'hanno mai giocata quindi una squadra giovane se vogliamo anche inesperta per queste competizioni ma quanto l'inesperienza può trasformarsi in un'arma intesa come sfrontatezza, leggerezza e dunque anche vita come diceva lei prima Sì, è proprio così che poi l'entusiasmo di questi calciatori deve prevalere su quelle che sono le preoccupazioni di giocare in questo torneo Noi contro una super squadra come il Liverpool dovremo stare attenti ad essere bravi anche quando non si è belli bisogna crearsela questa disponibilità ad accettare che in dei momenti loro siano più bravi di noi ma mantenendo ugualmente intatte quelle che sono le nostre caratteristiche quelle che sono le nostre qualità e quella della freschezza e della voglia di giocarci in questa competizione e proprio di quelli che non l'hanno mai giocata è un'arma molto importante che sono convinto faranno vedere tutti quelli che scenderanno in campo domani sera First of all, I'm sorry that you've sustained that injury and I hope you'll be back on your feet very soon Coming back to this concept of life because you have a number of players in your squad that have never played in the Champions League before this is a young, inexperienced side but do you think that inexperience in some ways could actually prove to be a strength an asset in that they'll go into the match with clear heads and have a bit more of that life so to speak Yeah, I think that's the case The most important thing is that our enthusiasm outweighs any concerns we might have in being involved in the Champions League against a top side like Liverpool We need to make sure that we do a good job that even when our football is not necessarily pretty we accept that that might be the case we accept that the fact that during the match there will come times when Liverpool are better than us all the while staying true to our qualities as a side but that desire, that freshness, that enthusiasm to be involved in the Champions League I think, yeah, that could be an important asset it could be a string to our bow and I think all the players that will go out there tomorrow night will show that Gazzetta dello Sport e si provare in mattina Auguri Questo è un momento importante di crescita queste partite da un punto di vista di carica si caricano da sé non c'è bisogno di parlare più di tanto però lo step di sabato l'ho già sottolineato è stato importante domani diventa più importante proprio per quel discorso di palle morte che possono diventare vive di colpo eccetera l'avversario e tutto il resto non è più importante la prestazione al di là che se poi viene anche il risultato non è che uno non è contento ma la prestazione proprio nel cammino di crescita di questo gruppo più che il risultato domani anche da far capire all'ambiente No, non abbiamo altra strada se non riusciremo a fare una grande prestazione sarà difficilissimo fare il risultato quello a cui si riferiva un pochettino anche Monica è questo fatto che ci potrebbe mancare che non abbiamo il calcio non mi piace molto sentirmelo dire non so come mai ma mi fa questa reazione qui noi si va in campo per giocare è una bella partita perché quello è il nostro marchio di fabbrica quello è il nostro brand e riuscire a rendere pulite le palloni riconquistati durante la partita è una caratteristica fondamentale più velocemente possibile perché la riaggressione del Liverpool è una di quelle più evidenti che si vede nelle squadre di Champions come perdono la palla ti saltano addosso cercano di riprenderti per il collo senza permetterti di di ampliare le distanze fra i nostri calciatori e la pulizia immediata di quella palla e mettere uno nelle condizioni di poter pensare una giocata diventa fondamentale non mi accontento l'ho detto prima non si va in campo per raccogliere i complimenti della partita noi andiamo in campo perché vogliamo essere all'altezza della situazione e cercare di fare punti questo è un momento importante quando riguarda la crescita e questi sono matchi che non necessariamente non necessariamente hanno bisogno di aggiornare di motivazione abbiamo visto l'importante progettazione in la partita in la partita con Lazio ma parla di questi balli che sono tornati a livello in la Champions League e l'opposizione che si vede non credo che sia più importante produzione una buona performance non di avere un buon risultato se non produzi una buona performance è molto impossibile per ottenere un risultato ma no noi vengono a giocare per giocare per fare bene perché è la nostra trademarche una delle più caratteristiche di nostro stile di play è che quando perdiamo la balla bisogna di torno e farlo e farlo e farlo e tanti so che possiamo giocare per una squadra perché Liverpool sono uno dei più e più più sideri in la world quando è come a counter press very quickly pressi e closing down quando si perdono la posizione si 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 Il mattino. Io prima di tutto sono onorato di sedere alla panchina vicina di Klopp, perché è un personaggio di quelli unici. Gli allenatori top sono quelli a cui fai riferimento per descrivere una filosofia di calcio. Quando parli di Klopp o di diventare un allenatore o di pensare di essere un allenatore alla Klopp ti rendi conto che diventa subito difficile trovare qualcuno che possa somigliargli. Intanto il cappellino ce l'ho anch'io, ho già fatto dei passi in avanti. Poi penso che siccome i grandi si rendono conto di quello che vanno ad affrontare senza presunzione, lui abbia visto la partita come io ho visto quella con Leverton e abbia trovato anche delle cose che facciamo bene, quello io non so descriverlo e magari suggerirglielo, perché poi io cercherò di vedere bene dove guarda lui e tutte le indicazioni che darà alla sua squadra. Se tu eravamo in Jürgen Klopp's shoes, perché hai parlato un po' di qualità che l'arrivo possesso, ma cosa vorrei pensare di Napoli in quanto riguarda le strengths che Napoli avevano l'anno scorso l'anno scorso? Per prima cosa, sono molto honnata di scegliere in la ducca con Jürgen Klopp, un caratteristico e quando si parla di top scopo, è uno di dei benziuti in termini di descrivere una fottopoli filosofia. C'è un'unica similità tra i scopo, ma quando si parla di Jürgen Klopp o di un scopo che sia come Klopp, You realise it's very tough to actually find someone That is similar to him in the first place Albeit I have worn a cap today So I'm already getting a little bit closer to him But I think the top coaches realise Without straying into the realms of arrogance They are able to see things See facets in opposition games He'll have spotted things in our game In that match against Lazio Just as I saw things from his game against Everton I'm not necessarily going to tell Klopp What exactly it is he should be looking for Because I'm going to try and keep an eye on Exactly what he is watching as part of our play And the instructions he gives to his players Allison dalla Roma passò al Liverpool Fu uno dei portieri più pagati della storia del calcio E nonostante ciò lui ha dimostrato fin da subito il suo valore Se si va a fare un paragone con il calcio giocato Allison sarebbe il centro avanti dei portieri Per postura e per personalità Per qualità di gioco Momosalà una volta io l'ho portato Per un recupero di 60 metri Su un 4-0 In evidenza su uno schermo di una conferenza stampa E lui è Bravo E' quello Che Può mantenere in vita Una palla che ha 70 metri di distanza Che sta uscendo dal fondo Mette il turbo Te lo ritrovi a 200 orari A recuperare quella palla A passarti da vicino Con una facilità e con una qualità Incredibile Per cui Quelle sono due maglie che voglio per metterle Nella mia collezione di sicuro E li saluterò Abbracciandoli molto calorosamente And let me just say what a great Satisfaction it will be To once again see Allison and Mohamed Salah I was fortunate enough to coach them both And I'll be delighted to see them back out there in action again I remember when Allison signed for Liverpool from Roma He was one of the most expensive goalkeepers of all time And yet despite that right from the word go He showed his worth And I think if you were to try and compare Allison In terms of where he ranks in the goalkeeping stakes He's almost like the centre forward The number nine of goalkeepers In terms of his stature His character His quality As for Mohamed Salah Once in a press conference After we'd beaten Palermo by four goals to nil I actually highlighted the fact that he'd sprinted back 60 yards To recover possession despite the fact we're winning 4-0 And he's one of those players that can keep alive a ball that appears to be dead and buried A ball that is 70 yards away about to go over the byline And he simply puts on the afterburners at 200 kilometres an hour He runs in front of you very easily And wins back possession So Allison and Salah are two shirts that I'd love to add to my collection And I'll embrace them very warmly tomorrow night Bravo Patrick Grazie Grazie mister Grazie Grazie Grazie